ma proprio l'uramagi come tipo di sushi non è vero sushi giusto? diciamo che è un sushi che è stato inventato da un giapponese ma nei Stati Uniti adattando al gusto degli americani non è proprio un sushi tradizionale non è un sushi che trovi in Giappone ok è stato fatto semplicemente da un giapponese però adattato al gusto americano esatto We Got You ciao ragazzi benvenuti in un'altra puntata di We Got You oggi siamo qui con Kenta Suzuki ciao Kenta grazie per essere qui con noi sì sì non si sente ma il suono arriva perfetto perfetto tutto ok grazie senti raccontaci subito un po' la tua storia come arrivi in Italia perché arrivi in Italia e come inizia la tua carriera da divulgatore ok avete tutta la notte ti ascoltiamo vai allora niente molto brevemente all'età di 16 anni decidi di venire in Italia perché volevo diventare giocatore professionista di carcio e quindi volevo provare e poi diciamo che tra un infortunio e magari non avendo una capacità tale da poter diventare giocatore professionista e rinunciai di giocare a carcio e poi all'epoca appassionai della nutrizione e quindi iniziai a studiare la nutrizione e l'alimentazione per poi poter andare a studiare in un'università nella facoltà di dietistica e poi niente sono andato all'università alla cattolica e ho avuto un percorso un po' particolare perché all'epoca ho dovuto interrompere i studi proprio perché ho passato un periodo di depressione e quindi ho dovuto interrompere un anno forse anche di più e l'epoca tornai anche in giocatore per stare un po' con mia famiglia per riflettere su ciò che potevo fare eccetera ma poi alla fine insomma ho voluto completare i studi mi sono laureato qualcosa lì in Giappone che ti ha aiutato a tornare diciamo che ho capito che come si dice non potevo niente da perdere quindi almeno volevo provare e male che vada rinunciavo i studi come facevo prima e alla fine è andato bene però dopo la laurea non è che ho trovato subito un lavoro lavoro e quindi mi 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 sono arrangiato di lavorare in piazza di Spagna distribuendo i volantini è un lavoro un po' particolare perché dovevo distribuire volantini per i miei connazionali cioè i turisti japonesi che venivano a Roma Con quel volantini Dovevo un pochettino portare I giapponesi Al negozio di souvenir Dove lavoravo Puoi immaginare insomma un giapponese Che distruisce volantini in piazza di Spagna Molti dei miei connazionali Mi guardavano male Dici ma questo ma che sta facendo Frattempo sono diventato L'amico di Magari i ragazzi Signori che distribuevano le rose Coloro che vendevano i bracciaretti No? Senza diciamo mancare rispetto a nessuno Ma molti tour leader Capi gruppi Dicevano ai loro clienti I turisti Di non stare vicino A coloro che distribuiscono le rose Che cercano di vendere i braccialetti E anche un giapponese Che stava in piazza di Spagna Mi guardavano malissimo E io che comunque Ho studiato tanto Certo magari triennale Però comunque per me Era un percorso importante Ho studiato Finalmente sono dietro dietista Però lavoravo in piazza di Spagna Avevo questa frustrazione immensa Tale da ogni giorno che andavo in piazza di Spagna Piangevo Certo In più i giapponesi che mi guardavano male Cosa devo fare? Neanche ti aiutavano Tu ci mettevi tutta la buona volontà Però Anche questo no? Eh sì Però frattempo Ho iniziato a lavorare come interprete Sfruttando tra virgolette La mia conoscenza Nel campo medico E quindi Facevo I tramite tra I turisti che si sentivano male O si facevano male E I medici Andavo in ospedale E facevo questo Diciamo l'interpretariato Tra i giapponesi Che mi guardavano male Però avevano bisogno di aiuto Ma poi gli serviva Qualche cosa dobbiamo pure fare Esatto Esatto Però giustamente Era un lavoro Occasionale E ovviamente Non potevo sperare Che i giapponesi Si sentissero male Ogni volta tale Da poter lavorare E quindi Ho iniziato a cercare Un lavoro E contemporaneamente Ovviamente cercavo anche Lavoro da dietista Però non trovavo quindi Anche all'epoca Ho dovuto arrangiarmi E ho trovato Una società Di coordinamento Televisivo Per i giapponesi Questa società Coordinava Aiutava A fare delle riprese Per delle produzioni Giapponesi Che volevano girare Un programma di viaggio Insomma Per i giapponesi E io facevo tipo Traduttore Interprete Eccetera Però insomma Tra una cosa e l'altra Ho deciso di cambiare lavoro E all'epoca Ho trovato Una società Di produzione Pubblicitaria Sempre per i giapponesi Era sempre Diciamo Tu eri un ponte No? Cioè Anche perché Alla fine Quello che faccio È quello Cioè Faccio i tramite Ecco Ebbene Quindi Giravamo Dei spot Giapponesi Con Magari Dei personaggi Importanti Come Carciatori Tipo Honda Nagatomo Anche Contotti Cristiano Ronaldo Eccetera E poi Che è successo Giugno 2019 E ho avuto Un paio Di arresti Cartiaci Dovuti Alla mia Cartite Durante La mia Trasferta Di lavoro A Napoli E All'epoca Niente Sono andato A pronto soccorso Perché mi sentivo male E A pronto soccorso Ho avuto Due arresti Cartiaci E poi Sono andato In coma Farmacologica Mamma mia Sì Dove sono stato Tipo Forse Meno di una Settimana In terapia Intensiva Alcuni medici Poi dopo Ho sentito Che alcuni medici Hanno detto Che insomma Avevo 50% Di possibilità Di morire E tu qui Eri da solo Sì Quindi è stato Ancora più difficile Poi ovviamente Insomma Diciamo L'ospedale Hanno avvisato I miei colleghi Eccetera E i miei colleghi Hanno chiamato Mia madre In Giappone E mia madre Ha dovuto sostenere Il viaggio più brutto Della sua vita Mamma mia Ci credo E quindi Lei ha preso Il volo Pensando che Suo figlio Stesse morendo E E poi Che è successo Dopo La coma Farmacologica Mi sono svegliato E Su 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 un tavolo C'era La lettera Di mia madre Dove c'era scritto Kent Sono felice Di vederti E Sono qui Con Arisa Che è mia sorella E Ti aspettiamo Non vedo ora Di vederti Durante L'ora Di Visita E mi sono scoppiato A piangere Ci credo E Durante L'ora Di visita E Mia madre Insomma È venuta A vedermi E Io Insomma Non è che Ci capivo Più di tanto E Lei ha iniziato A massaggiare I piedi Che erano Indrensiti Non so Da cosa è dovuto Però ad un certo punto Ho percepito Le sue lacrime Che cadevano Dagli occhi Lei non mi faceva Vedere Suo sguardo Mi Tranquillizzava E Lì Capisci Che cosa Anche se non era Colpa mia Ma cosa Combinato Che cosa Combinato Nel senso che Ho fatto soffrire La persona più importante La mia vita Credo Che Per molti genitori Per quasi Tutti i genitori Credo La sofferenza No Perde Esatto E quindi Lì Ti Rifletti Un attimo No Dici Ma che cosa Ho fatto Lì Ho iniziato A Insomma Riflettimi Sulla mia vita Ho cercato Di dare L'importanza Alla mia felicità Perché Se sono felice Lei sarà felice Però Per essere felice Che cosa Devo fare E da lì E è partito Diciamo Il mio percorso Sulla Famosa Ricerca Della felicità Forse In quel caso Più che La ricerca Della felicità La ricerca Di me stesso Quello che Dico sempre Io La felicità Dipende Dipende Da Da noi Cioè Bisogna Conoscere Noi stessi Per arrivare Punto D'arrivo Un po' come Per dire Dulla mappa Anche se Sapessimo Dove vogliamo Arrivare Ma se non Sappiamo Dove Stiamo Ora Non 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 sai Il percorso Con cui Poter raggiungere E quindi Bisogna Conoscere Noi stessi Dopo La dimissione Ho iniziato A lavorare Su di me Per conoscere Un po' Chi sono Cosa Mi rende Felice Cosa Non mi rende Felice L'ambiente In cui Dove poter Esprimere Il mio essere Piazza di Spagna Immagino E bravo 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 Assolutamente Sì Precisamente La scarinata Dove piangevo Sempre Riparto Da qui Esatto Salutiamo Amici Di Piazza di Spagna Bravo E da dove Sei ripartito E E poi E poi Niente Dopo un anno Ho iniziato A capire Un pochettino Chi sono E la direzione Dove volevo andare E è iniziato A Mettere Mettermi in atto Ecco Inizialmente Ho aperto Un canale Youtube Dove Dove poter Parlare Dei Delle mie conoscenze Su Sugli alimenti Italiani Quindi Parlavo un po' Su Prodotti DOP No Prosciutto Gruto Di Parma Parmigiano Quindi lo facevi Per i giapponesi Però Esattamente Bravissimo 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 E' lì che Avevo sbagliato Diciamo Più o meno I format Era simile Ma Non era Il luogo Che si addiceva Con il mio Quello che volevo fare Io E quindi E' andato male Diciamo Non ho avuto Tanti forward Poi alla fine Non sono riuscito A monetizzare Ad un certo punto Ho iniziato a fare TikTok Parlando in modo Molto semplice Come si dice Buongiorno in giapponese Grazie Eccetera E da lì E' iniziato Il percorso Mio Su social Immagino Tra l'altro Che Come ti è venuta Quest'idea Perché Immagino Che stando in Italia Ti è capitato Anche di italiani Che ti chiedono Qualcosa Sulla tua cultura Sul Sì Quello sì Però Non ho mai dato Una grande importanza Anche perché Studiavo La nutrizione Volevo sfruttare Quella conoscenza Non avrei mai Immaginato Che Potevo Avere Tra virgolette Tanti follower Sui social Parlando Della mia cultura Invece Ti volevo chiedere una cosa Canta Mentre parlavamo Di tutto questo Correggimi se sbaglio Mi è venuto un po' in mente Il concetto Dell'Ikigai Vero? Sì E quindi ti volevo chiedere Se ce lo spieghi Sì E poi Credo sia una cosa Anche abbastanza attuale Perché Proprio in relazione A questo concetto Tu hai preso Una scelta Negli ultimi giorni Che è quella Di non partecipare Al grande fratello Esattamente Esattamente Ma diciamo Che è una Filosofia Di Okinawa L'isola sud Del Giappone L'isola famosa Per Per essere considerata Come zona blu Come sartegna Insomma Una zona dove C'è un alto tasso Di presenza Di ultracentenari Quindi C'è tanta saggezza In quell'isola Il concetto Di Ikigai È Credo Uno dei mezzi Per trovare La ragione Di vita Io Essendo giapponese Mi sono fidato Di questi Diciamo La saggezza Dei anziani Io tirava Adesso ho detto Vabbè proviamo Diciamo che è un concetto Ora Per voi Cos'è La ragione Di vita Cos'è Che vi fa svegliare La mattina Eh infatti Perché Diciamo che Quando me la poni Così la domanda Io penso subito A qualcosa Che mi appassiona No Però La bellezza Delle Ikigai È che Tu devi riuscire A trovare Sì qualcosa Che ti appassiona Ma che Può anche poi Diventare Una Una fonte di guadagno Cioè un lavoro Vero e proprio Bravissimo Bravissimo In effetti Molte persone mi chiedono Guarda Ken Io La passione C'è l'ho Però Non coincide Con il mio lavoro O con la mia vocazione No E quindi In Questa situazione Forse Ikigai Potrebbe aiutare A trovare La ragione di vita Nel senso Ikigai Spiega Il Ikigai È composta Da quattro fattori Ciò che sappiamo fare bene Ciò di cui il mondo Ha bisogno Ciò per cui Ci pagano Su questo concetto Sono un pochettino Come dire Scettico Perché È un concetto Che Adattato Nel mondo Del capitalismo No Guadagno Possiamo dire Ciò che Ci fa campare Bravo Esatto E Ciò che amiamo Secondo me È molto importante L'ordine Con cui Definiamo I nostri Diciamo Questi quattro fattori Ciò che Sappiamo fare bene Perché È un'espressione Di noi stessi No Scoprire Chi siamo Cosa sappiamo fare bene Diciamo che Rispetta La nostra Indole E quindi Partiamo da questo Poi Affrontiamo Le esigenze Del mondo Ciò di cui Il mondo Ha bisogno Perché Perché Sia Ciò di cui Il mondo Ha bisogno Che Ciò per cui Ci pagano Il mondo Che riconosce La nostra Esistenza No Nel senso Ciò di cui Il mondo Ha bisogno Perché Attraverso La nostra Capacità Nostro Diciamo Saper fare Affrontiamo Le esigenze Che si Combaciano Ciò che Chiede il mondo Nel mio caso Ho trovato Nel mondo Del social In modo Molto preciso Sul mondo Del Giappone Certo Quindi Attraverso La mia Conoscenza Il mio Essere Giapponese E rispondo Alle domande Delle persone Che magari Vogliono scoprire Il Giappone Vogliono Approfondire La conoscenza Sulla cultura Giapponese E E questo Questo Diciamo Tra virgolette Riconoscenza Ti dà Una certa Gratificazione Anche A livello Di dignità Certo E poi Ciò per cui Ci pagano Alla fine Comunque Dobbiamo Pur vivere Certo Quindi Sia dal punto Di vista Mentale Psicologico E Anche Economico In questo Diciamo Concetto Di Kigai Viene Riconosciuto Il tuo Essere Alla fine Diciamo Andiamo Incontro Ciò che Amiamo Cioè Se ciò che Sappiamo fare Bene È Apprezzato Dal mondo È Ovviamente Anche Ti Anche a te Ti piacerà Certo Amerai Ciò che Esatto Quindi Credo che sia L'ordine In cui Trovare Di Rispondere Appunto A questi Quattro Fattori Secondo me È molto Molto Importante Sono d'accordissimo E chi invece Non piace Come la prendi Allora Non sei stato Sincero Con te stesso Nel senso No Nel senso Quello che dicevo Ti hai detto Insomma Se alla gente piace No Anche tu Ti senti Ti senti Amato Quindi funziona Essendo esposto Sui social Immagino che Anche a te Capita Invece di Essere un po' Pizzicato Da alcune persone E come L'affronti Questa cosa Allora 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 Diciamo che Se tu Ti conosci Bene È L'ambito In cui Il posto In cui Poter esprimere La tua Individualità Non credo Che ti possa Interessare Ciò che dicono Gli altri Cioè Quello che dico Sempre io È Non Ti fare Influenzare Dagli altri È importante Capire Chi sei E di Saper Trovare Il posto Che Si addice Con il tuo essere In cui Poter Far sbocciare Sbocciare Cultivare Affinare La tua individualità Quindi Alla fine Non 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 So Quanto Possa Importante Quanto Posta Come si dice Quanto Potrebbe Ser interessante Affrontare Questo Questo Tema No Cioè Diciamo Rispondere Agli Terzi Queste cose No Giusto Un bel Un modo Molto sano Di reagire A le critiche Mi piace Sì 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 Invece Ti volevo chiedere Una cosa che mi ha sempre Affascinato Io so che Diciamo Nel mondo Giapponese In Giappone Va C'è una grandissima Passione per il karaoke Ci spieghi un pochino Come nasce Questa passione Anche un po' Come viene sviluppata Cioè nel senso Ci sono dei locali Preposti solo a quello Beh esattamente Sì Noi giapponesi Non so se Il fatto Che sia Il Giappone È un'isola Cioè È un territorio Tra virgolette Chiuso Noi amiamo Stare in un Un posto Chiuso Un po' Un'associazione Diciamo Un'associazione Di idee Però secondo me C'entra un pochettino Perché Essere abituati A stare Su un'isola Così diciamo Tra virgolette Piccola E Andare magari All'estero Siamo molto Molto Sbaesati Cioè non sappiamo Affrontare Diverse Situazioni E quindi Credo che Credo che sia Uno dei Caratteristici Di noi giapponesi E Però Quindi c'è Nel senso Il karaoke Come pratica No? È Una delle cose Preferite da fare Dai giovani Anche il sabato sera Il venerdì sera Sì 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 Assolutamente sì Morti giovani Dopo Dopo la cena Dopo insomma Dopo cena Vanno In karaoke Per appunto Divertire Insomma La serata Ecco Uno di Credo Uno dei Insomma Divertimenti Più Più popolari In giappone Su karaoke C'è un Aneddoto interessante L'inventore Di karaoke È Giapponese Lui È riuscito A Diciamo Creare Questo Macchinario Karaoke Wow No? Cioè Nessuno Ha inventato Una cosa del genere Ma in realtà Lui Aveva Non è che Ha costruito Da zero Ha messo Insieme Diversi Strumenti Ma anche perché Si sa che c'erano Diversi strumenti Come Come lo stereo Il microfono Eccetera E però Lui ha avuto Questa Generata Di comporre Questi Diciamo Componenti Per creare Il karaoke Lui Essendo Un giapponese Così Umile Non ha Non ha mai pensato Che avesse creato Qualcosa di Wow Importante E in effetti Non ha registrato Il Brevetto Ah ma Pensate Cioè Quindi ha rinunciato A chissà quanti soldi Esatto Esatto A quest'ora Forse è diventato Uno dei Più Ecco Poteva essere Il Bill Gates Esatto Esatto Però Anche Insomma In quel contesto Descrive un po' La nostra indole Per dire Quanto è forte Il valore Dell'umiltà Nella cultura Giappone Ma a proposito Di cultura C'è qualcosa Della cultura Italiana Che è inconcepibile O Sconvolgente In Giappone Ad esempio Gli scioperi Una cosa che Beh quello sì Quello sì Molti turisti Giapponesi Vengono In Italia Con consapevolezza Che Possono affrontare Dei scioperi O Delle manifestazioni Però Una volta Magari Trovi Di fronte A uno sciopero Vero e proprio Lì Insomma Ti trovi un pochettino In difficoltà Anche perché Il tempo è quello Di viaggio Di vacanza Perdere Anche Di cinque minuti Che è in Giappone È difficilmente Un treno Fa ritardo Di cinque minuti È un sciocco culturale Forte Noi perché ormai Siamo abituati Quindi pure se Tarda di mezz'ora E quindi magari Per i giapponesi Forse Si Si sono andato Un pochettino In difficoltà Ma poi Alla fine Anche quella È l'esperienza Quindi Invece Noi ovviamente Se pensiamo A un piatto tipico Giapponese Pensiamo subito Al sushi Però Credo che ci sia Un po' Un errore di concezione Intorno al sushi Nel senso che È invece un piatto Che si mangia raramente Nella cultura giapponese Cioè si mangia In occasioni particolari Giusto? Quello è vero Ma diciamo che Di solito Lo mangiamo Una volta al mese Una volta ogni due mesi E come hai detto tu È un'occasione importante Come compreanno O Festa di laurea Oppure Quando Quando hai avuto Una promozione importante Al lavoro Quindi diciamo che Non è che mangiamo Quotidianamente E Adesso ormai Vivi in Italia Tanti anni Quanto Il nostro sushi È Diciamo Alterato Rispetto a quello Che si mangia Poi in Giappone Cioè nel senso Quando lo viene a mangiare In Italia ci sono Ricette Un po' italianizzate Ok Qui vorrei un pochettino Soffermare Non è giapponese Quello che mangiate Ora Premetto che Ci sono Tanti Ristoranti Giapponesi Autentici Dove ci sono I cuochi Giapponesi O non Che hanno studiato In Giappone La cucina giapponese Quindi secondo me La nazionalità Non è che insomma Conta più di tanto Importante che Ha la passione Per la cucina giapponese O Studiato in Giappone O ha studiato Da un giapponese O un esperto Indipendentemente Dalla nazionalità Quindi Detto ciò Quindi in Italia Ci sono Ci sono Giapponesi Autentici Il fatto che Il sushi Un piatto Che è diventato Così popolare Dove Il quale Insomma Molti Lugari Trattano Come un piatto Giapponese Indipendentemente Da Qualità Il tipo Ingredienti Che usano Questa cosa Secondo me Non va bene Cioè È un po' come per dire In Giappone Un ristorante italiano Che prepara La carbonara Doc Preparato con Guanciare Pegorino romano Eccetera Con la panna Esatto Esatto E magari Con la pancetta No Però Lo chiamano carbonara Non va bene No Non dico Che Magari Un Uramaki O California roll Dragon lord Non debbano essere Preparati Però Magari Lo chiamassero Come Non lo so Sushi Moderno Sushi Italiano Cioè Cambiassero il nome Perché Non Perché Molti italiani Magari Vanno a mangiare Da Un ristorante Non Giapponese Ordinano i sushi Che non è Sushi Tradizionale Giapponese Ma quindi Per esempio Al di là Dell'uso Del Philadelphia Ma proprio L'Uramaki Come tipo di sushi Non è vero sushi Giusto Diciamo che Un sushi Che è stato Inventato Da un Giapponese Ma Nei Stati Uniti Adattando No Gusto Dei americani Ok Quindi Non è proprio Un sushi Tradizionale Non è un sushi Che trovi in Giappone Ok È stato È stato fatto Semplicemente Da un giapponese Però adattato Al gusto americano Esatto E qualche piatto Tipico Invece Giapponese Che magari Si può trovare Anche a Roma In questi pochi Ristoranti No guarda Che non Non sono pochi Non sono pochi Sì sì Ci sono Ci sono Magari Un Katsudon Ma hai detto Subito Ma hai guardato Però pure te Fai sta faccia Ma hai guardato Subito Tu però lo sapevi Prima di chiedermelo A te piace Katsudon È vero Lo conosco Benissimo Vabbè A te piace Katsudon A te Un kats Però Qua bisogna mettere Le immagini Le immagini giuste Dovrattutto Quale immagine Ovviamente Beh Katsudon È La carne di maiale Cioè La cotoretta di maiale Sì Ah Ed è fatta tipo Fritta Panata Esatto Esattamente Ok E Invece Sempre ritornando A questi ristoranti tipici Te ne ricordi qualcuno Che vogliamo consigliare Due tre Che ti A Roma Che ti sono rimasti impressi Beh insomma Non voglio Non voglio fare complicità Sbilanciare Conosco quasi Tutti i ristoratori Giapponesi Vabbè Allora E vediamo Vediamo Non facciamo preferenze Però ci sono E Intanto saluto tutti Eh certo Bravo Poi ce li dici in privato Magari Vabbè 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 Se non poi diventa La pubblicità occulta Bravo È giusto Devo stare Devo stare attento Voglio fare un'altra domanda Su Sui manga E sugli anime Sì Che stanno andando tantissimo Soprattutto nell'ultimo periodo Cosa ne pensi Ti piacciono E magari ci racconti Anche un po' La cultura Ok Allora diciamo che Quando arrivai in Italia Ventitré anni fa E i miei amici Giustamente Mi chiedevano Del manga Dell'anime E parlavano Che anime E manga Facessero parte Della cultura Giapponese All'epoca Io personalmente Non Li consideravo Come la cultura Giapponese Adesso si Adesso Anche il governo Giapponese Riconosce Che anime E manga Fanno parte Della cultura Giapponese Però All'epoca Sentire Dai miei amici O dai altri Italiani Che anime E manga Sono Diciamo La cultura Giapponese Mi dava Un pochettino Fastidio Nel senso Che All'epoca Come posso dire Non dico Superficiale Ma Percepivo Un po' Una cosa Del genere Perché Per me La cultura Magari La tradizione L'artigianità Giapponese La katana La spada Giapponese Eccetera Invece Parlare Di Sempre Anime E manga Mi dava Un pochettino Fastidio Però Ho iniziato A fare Social Capisci Un attimo Come funziona No Nel mondo Del marketing E della pubblicità E capisci Quanto è importante Divulgare L'importanza Nella divulgazione Cioè Mio nonno Mi diceva Ken Anche se tu Avessi Un diamante Ma se Nessuno Sa che tu Hai Diamante Quella pietra Vale quanto Sassolino Che trovi Sotto il tuo piede E quindi E lì Ho capito Per far conoscere Giappone Bisogna Bisogna Intanto Divulgare Quindi Qualsiasi Mezzo Che sia Manga O anime O la katana La spada Giapponese O washi La carta Tradizionale Giapponese O Non lo so Qualsiasi Cosa Servono Per far Conoscere La cultura Giapponese E io Personalmente Leggo Leggo Il manga E guardo Pure anime E quindi Sì Diciamo che Una parte Del cultura Giapponese È molto Molto Importante Secondo me Invece Ti volevo chiedere Del tema Del disonore In Giappone È ancora Un tema Che porta Tanti ragazzi Al suicidio Al giorno D'oggi Quindi Se ci spieghi Un pochino Che cosa Scatta Nell'uomo Medio Giapponese Riguardo A questo Tema Perché È così Importante Ok Allora Diciamo Che La società Giapponese Tra virgolette Non consente Di commettere Un errore Oppure Essere Diverso Dagli altri Ok Ok Quindi La società Che Ci impone Di Seguire La massa Forse Una parte Tra virgolette Utile Per Mantenere Certo Livello Di civiltà No Però A volte È un pochettino Difficile Esprimere La nostra Personalità Anche se Sui social Parlo Molto Dell'importanza Della nostra Individualità Quindi Diciamo che Sia nell'ambito Lavorativo Sia nell'ambito Scorastico È molto Importante Seguire la massa Quindi Sarà in passo Con i studi Al lavoro Bisogna insomma Dare un certo Tipo di Impegno Di lavorare Magari Otto ore Ma più di Otto ore Per dire Poco 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 Magari Non ti senti Più Di stare In quella Società Di non reggere Quegli standard Diciamo Esatto Ti senti un po' Emarginato Qualcosa Che poi Ti porta A Hikikomori Hikikomori È un Fenomeno Molto Molto Diffuso In Giappone Che Si mette Disparti Dalla Società Ragazzi Che si riusciano In stanza Esattamente E Il caso Più grave È che Ti porta Al suicidio Quindi Io mi immagino Proprio Cioè sentendo Di parlare Mi immagino Magari Un ragazzo In età infantile Che Si sente Diverso Anche semplicemente Perché ha degli interessi Diversi Rispetto alla massa O Dei sogni Delle ambizioni Diverse Rispetto a quelle Che le dice la società Che tipo di danno A livello psicologico Ti può creare Se invece tutti Ti fanno sentire Come sbagliato E non soltanto Come diverso Esattamente Esattamente E Secondo te Diciamo Si stanno facendo Dei passi in avanti Per cercare Per cercare di cambiare Questa cosa Ultimamente Sta cambiando Molto Diversamente Magari Da 20 25 30 anni Fa E Molti ragazzi Stanno cercando Di dare L'importanza All'individualità Alla loro Individualità E Molti ragazzi Magari Vanno all'estero Per esprimere La loro individualità Come hai fatto tu poi no? Esatto 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 Quindi Si Poi Alla fine La cosa strana È che Nel mondo Lavorativo Chi sa Esprimere La propria individualità Ha saputo Affinare La propria individualità Viene apprezzato Perché Sa offrire qualcosa Che gli altri non hanno Certo Diventi unico Nel mercato Esattamente E quindi È un mondo Un po' particolare In effetti Molte persone Parlano Dell'oppressione Sociale Che magari Porta Appunto A Hikikomori Oppure Karoshi La morte Dal sovraffaticamento Del lavoro Ah ok Oppure suicidio Eccetera Ti voglio fare una domanda Prima Ci hai raccontato La tua storia Toccante Bellissima Che ti è successa E E hai parlato Hai detto anche Una frase bellissima Su tua madre La persona più importante Della mia vita Che soffriva Ti voglio chiedere Com'è Il rapporto Con la famiglia In Giappone Se è diverso Della cultura italiana Beh sì Diciamo Il modo Di esprimere Il nostro affetto L'amore È molto diverso I giapponesi Sono molto Molto Diciamo Come si dice Timidi Non esternano Diciamo Il loro sentimento Però Hanno Il loro modo Di esprimere Appunto L'affetto E l'amore Cosa che Deve Andrebbe Caputato Ecco No Per dire Mh 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 Lui Insomma Nato In una famiglia Di contadino Mh 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 Produce Produceva Il riso In campagna Non ha mai avuto Tra virgolette In insegnamento Di esprimere Il suo sentimento Quindi Lui ha Aveva Ha Tuttora Pochi mezzi Per Comunicare Esprimere L'affetto E l'amore Anche Con i suoi Familiari Anche Con me L'unico Mezzo Per esprimere Il suo amore Nei confronti Di sua famiglia Era Di garantire Una Diciamo Tra virgolette Una certa vita Una vita No Decente Alla sua famiglia Lavorando Dandosi da fare Al lavoro E Però Quando hai 10 anni 12 anni Non puoi capire No Dirai Vabbè Mio padre Non c'è mai Non mi accompagna Mai La partita Per dire No Però Quando diventi Magari un pochettino Più grande Capisci La sua situazione E Anche Difficultà Di esternare Il sentimento Capisci Quanto L'amore Ci mettevano Per Per noi Per i suoi Famigliari Questa cosa La domanda Che mi faccio io Da questa storia Poi Tu che hai sofferto Di questa cosa Poi Con tuo figlio Non ti comporteresti In modo diverso Oppure Anche tu Capisci che È importante Invece garantire Assolutamente Ecco Qui Subentra Diciamo Cose che ho imparato In Italia Grazie a voi Come esternare L'affetto E l'amore L'importanza Di esprimere L'amore E l'affetto Anche i mezzi Con cui Poter esprimere Appunto Il nostro Il mio sentimento No E quindi Insomma Grazie Grazie Di domande Non ti preoccupare Non ti abbandoniamo Io ne leggo una Che leggo qui Il bullismo In Giappone È un problema Molto sentito Interessante Sì Allora Io stesso Sono stato Vittima di bullismo E Quando avevo Dieci anni In pratica E Bullo Che Bullizzava Aveva una famiglia Tra virgolette Un po' Particolare I Suoi genitori Si erano Si erano Divorziati E Lui È cresciuto Con Con sua madre Con sua madre Che lavorava Di sera Quindi Non aveva appunto Un momento Di convivialità Con la sua famiglia E Un giorno Mia madre Invito Sia lui Questo ragazzo Che Arter Insomma Miei amici Alla festa Del compreanno Lui Vedendo La mia famiglia Unita Felice I miei genitori Che Mia madre Che organizza La festa Del compreanno Che Lui Non ha mai Avuto Questa possibilità Il giorno Dopo Cambiò L'atteggiamento Però Questa cosa Ho saputo Dopo Dopo Che Ho avuto Appunto Questa esperienza Di bullismo E Sì È stato Un periodo Piuttosto Difficile Mi Bullizzava Non solo Lui Ma Tutta la classe E quindi Il bullismo C'è È un Tema Da affrontare In modo Molto Molto serio Tra l'altro Magari Alcuni Manga O anime Trattano Questo Questo Argomento Questa Tematica Descrivono In una maniera Magari A volte Un po' È enfatizzato Però Alcuni Manga Descrivono In un modo Molto Molto Realistico Sì Forse Enfatizzano Proprio Per passare Un messaggio Più forte Quello Sicuramente Sì Sicuramente Sì E Una cosa Che ho scoperto Di recente Invece È Il modo In cui In Giappone Si inizia Una frequentazione Con Tra ragazzo E ragazza O comunque In generale Tra due persone Cioè Se ho capito bene C'è proprio Una dichiarazione Già All'inizio Giusto Sì Già sorridi C'è qualcosa Questa non la conosco Allora Di base Ovviamente ci sono Diversi modi Per Approcciarsi E iniziare La frequentazione Però Di base Noi giapponesi Prima di iniziare La frequentazione Si dichiara Dicendo In giapponese Ski desu Ski a te Cosa sai Tu mi piaci Ti vado Di stare Con me E poi Inizia la frequentazione Quindi È una dichiarazione Con cui Dimostri La tua Tra ricordi Lealtà Per dire Oh Tu mi interessi Mi interessi Solo tu Vogliamo Iniziare La frequentazione Seria È questa È questo per esempio È una cosa Sicuramente molto particolare È difficile da noi Forse per comprendere Da comprendere Perché Pensare di dirla A me già imbarazza Per esempio No? Però Mi piace il fatto Che spesso Qui da noi Il rapporto È molto Poco chiaro No? Quindi tu ci metti Tanto a capire Ok ma la nostra È una relazione Esclusiva Oppure no? È difficile Riuscire a trovare Il coraggio Di affrontare Questo discorso Quando È una frequentazione Ci vuole tanto tempo Invece Sono proprio Agli opposti No? Cioè noi Ci mettiamo tantissimo Voi invece Da subito Mettete Le cose in chiaro Esatto Esattamente Perché quando Si fa Diciamo Questa richiesta Questa proposta È molto sincera Quindi è stata pensata Beh sì 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 È una dichiarazione Importante Sì 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 Secondo me La differenza È il fatto Che Noi giapponesi Diamo una Un significato Non importante Cioè non è una Una gara Più importante Il significato Magari Diverso Forse la concezione Del matrimonio È un pochettino Diverso Cioè Soprattutto Nell'ambito Lavorativo Sociale Diciamo Avere Una vita Scusatemi Scusatemi Insomma Come si dice Realizzare Il matrimonio Tra virgolette È un Un successo Ok È una responsabilità Vabbè responsabilità Anche qui Per carità Però Soprattutto A livello sociale E L'ambito Lavorativo Scusami Lavorativo E questo perché La Società in cui Lavori Quando Uno Si sposa Avrai Una responsabilità In più Quindi Anche Nell'ambito Lavorativo Si da da fare Per mantenere La famiglia Ah è ben visto Dalle società Esattamente 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 In contrario Invece Divorzio Viene visto Malissimo E proprio Perché Non sei riuscito A Mantenere La tua responsabilità Torna un po' Il tema del disonore Esattamente Esattamente Poi ultimamente Diciamo che la situazione Sta un pochettino Cambiando Però Sì Diciamo che Il concetto È quello Che poi Diciamo qui Ultimamente Sono aumentati Molto i casi Di divorzi Però Se parlo con i miei nonni Invece era molto più simile Appunto La vostra cultura Ma T'è che mia nonna Dice sempre Io Se Nascevo adesso Da mo' che avevo divorziato Vabbè È cambiata proprio La mentalità Sì Certo Si è sviluppata Diciamo Non si sa Se nel bene o nel male Perché poi Magari uno Non sta bene Certo 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 Non Non ti puoi influenzare Dall'opinione Degli altri O dalla società O Della società Ecco Quindi Però D'altra parte Magari uno Cioè È una cosa così comune Che dice Vabbè Magari non sei manco così convinto Fai sto matrimonio Poi se me O al massimo divorzi Quindi Quindi la decisione È un po' meno Forse rispetto a prima È infatti bravo a quello Cioè È bello che ci sia Come possibilità Il fatto che Se due persone Poi stanno male insieme Non c'è niente di male A separarsi Però È anche molto bella La concezione giapponese Del La famiglia è così importante Che Non ci abbattiamo Alle prime difficoltà Proviamole tutte Poi Se Invece le cose Proprio non funzionano Uno si separa Un'altra cosa Che avevo letto È che In Giappone C'è un problema Di lavoro minorile Ancora Aspetta Di cosa Stiamo Cioè Non che sto negando Sì C'è Però Forse magari stai No Ti volevo chiedere Se Ad oggi In Giappone C'è Tanto un fenomeno Di Minori Che Sono costretti A lavorare Anche appunto Prima di raggiungere La maggior età Oppure Se invece È una piaga Che è stata sconfitta Allora Diciamo che Ci sono I lavori Minorire Però Non credo Che sono costretti A lavorare Cioè Scelgono Di lavorare Poi Il tipo di lavori Che svolgono È quello Insomma Bisogna un attimo Discutere meglio Però Sì Più che È un'esigenza È una certa Ok C'è la possibilità Nessuno li obbliga C'è Quello sì Quello sì Ok Cioè È diverso da noi Dove c'è un'età Limite Prima della quale Non puoi Lavorare Beh sì Anche in Giappone Però Molti Molti miei amici Facevano part time Dopo la scuola Ok Proprio perché Volevano la paghetta Certo Ecco Questo Questo sì Oppure Magari Chi lavorava Per guadagnare Mettere da parte I sordi Per andare a studiare L'università Eccetera Ok Questo fenomeno Diciamo c'è anche da noi Cioè anche noi Tante persone Quando sono Già dai 16 anni in poi Iniziano a fare magari Il cameriere O questi lavoretti così Per mettersi i soldi Da parte per le vacanze O queste cose qua A proposito di università C'è grande pressione Da parte dei genitori In Giappone Per Gni Gni Ovviamente non tutti Però Molti giapponesi Molti genitori Si Spingono I propri figli A studiare E di entrare Nelle università Prestigiose Anche perché Entrare In un'università Come L'università di Tokyo Che è L'università più importante Del Giappone Fa il curriculum Influenza molto Nell'ambito lavorativo Quindi Sì Molti giapponesi Studiano Molti genitori Spingono I propri figli Di studiare Quello sì E Un'altra cosa Con letto Anche scusami Se apro Una piccola parentesi Anche qui Diciamo La pressione È talmente forte Che molti studenti Soffrono Di depressione Anche In caso Di Kiko Mori No Questo sì Un'altra cosa Con letto È che Ci sono Dei locali In Giappone In cui Non è permesso Agli stranieri Rientrare Ok Sì Questo sì Se ci vuoi spiegare un po' Però diciamo che Uno dei lati oscuri Del Giappone Che magari Ne parlano sui social E alcuni Enfatizzano Non nego Che non ci siano Quindi ci sono Però non possiamo generalizzare Nel senso che I locali ci sono I locali che magari Sì 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 Un po' perché Vorrei sottolineare Che comunque I razzisti ci sono Anche in Giappone No? Novunque Quindi Gestiti dai Appunto Questi diciamo Giapponesi Razzisti Un po' perché Magari Hanno Questo è un modo Di essere Tipico Giapponese Non riuscendo Ad offrire Un servizio Tale Cioè Un servizio Di qualità Ai stranieri Alcuni Giapponesi Magari Dicono di no Ai stranieri Perché magari Non riescono a parlare In inglese Perché magari Non conosce Bene La cultura Di questo Diciamo Turista straniero Insomma Anche per proteggersi Un po' Diciamo Sulla Lecensione Dici? No Proprio Non posso Cioè Non posso Offrire Un buon servizio Sì Quello Diciamo La base Nel senso Che È un limite Di noi Giapponesi Che ci poniamo È Quando non riesciamo A fare Una cosa Fatta bene Siamo un pochettino Broccati Un po' Siamo Perfezionisti Quindi Forse Questa tendenza Porta anche Tra virgore Nei casi Estremi Come Non accettare Stranieri Però Non dico Che sono Tutti Rassisti No No Magari È una piccola Minoranza Appunto Come dicevamo È venuto in mente Rispetto a quello Che hai detto Prima Che è iniziato Il percorso Ti sei Rifatto Diciamo A questo Detto Antico Agli antichi Che ti ha aiutato Appunto A conoscerti meglio E a trovare La tua strada E ci sono Altre Lezioni Che hai appreso Dalla cultura E da Magari Che si Trapassano I problemi Ok Beh Ce ne sono tanti Insomma A miei nonni Come racconto Anche sui social Loro Insegnamenti Mi hanno aiutato Molto Sulla Crista Personale E È uno Di quali Potrebbe essere Il concetto Di Dare L'importanza All'individualità Cioè Un proverbio Giapponese Scritto Con Quattro Ideogrammi Ciliecio Prugna Pesca E susina E Questo proverbio Insegna Che Ognuno Dobbiamo trovare Il posto giusto Per far Sbocciare Coltivare E affinare La nostra Individualità Che sarebbe In questo caso Fiore Una metafora È di dare L'importanza Appunto Alla nostra Individualità Questa cosa Mi ha aiutato Molto A sviluppare La mia Personalità Di Di Non dare Molta Importanza All'influenza All'influenza Esterne Ciò che Dicono Gli altri Ciò che Pensano Gli altri E in effetti A 16 anni Ignorando Tutto E tutti Sei partito E hai trovato La tua felicità Esatto Senti Invece Diciamo Adesso Hai scritto Il tuo libro Hai iniziato I tuoi tour In Giappone Con I tuoi follower O anche Semplicemente Chi Insomma Vuole fare Questo tipo Di viaggio Che altri Obiettivi Hai Per il futuro Allora Diciamo Che Vorrei Consolidare Il mio branding Diciamo così Kenta Uguale Giappone Autentico Quindi Anche Nell'ambito Tra virgolette Lavorativo Sui social Sto molto Attento Non mi va Di promuovere Qualcosa Che non c'entra Niente Col Giappone O qualcosa Che non fa parte Del Giappone Autentico Quindi Vorrei essere Sempre coerente E certo Se soffri Se vado a vivere Sotto un ponte Magari Qualcosa Provate questo Parmigiano Buonissimo Del Giappone Però Cerco sempre Di Insomma Rispettare La mia coerenza E Vorrei essere Punto di riferimento Sul Giappone Per Il pubblico Italiano Questo sì Quindi Magari Rappresentare Come guarità Di Ambasciata Di cultura Giapponese Ambasciatore Di cultura Giapponese Sui social E rispettiamo Ambasciatore Ufficiale Non voglio Eccomi qui Quindi sui social Sì Vorrei essere Appunto Punto di riferimento E organizzare Appunto Più viaggi Possibili Magari Raccontare Anche Anche L'artigianalità Giapponese Sto organizzando Il prossimo tour In Giappone A febbraio Vorrei inserire L'incontro Tra virgolette Workshop Con Diciamo Patrimonio Vivente Giapponese Cioè In Giappone C'è Una figura Come Patrimonio Vivente Cioè Il governo Assegna Ai Artigiani O le persone Che tramandano Le tradizioni Antiche Giapponesi Per esempio Quali? Ce ne racconti qualcuna? La carta Tradizionale Giapponese Washi Questo Diciamo Signore Di Circa 90 Anni Che tramanda La tecnica Tradizionale Di Echizen Washi Un Un posto Diciamo Comune Che si chiama Echizen Di Prefettura Di Fukui Questa tradizione Viene tramandata Oltre 1500 Anni E Mi piacerebbe Appunto Inserire L'incontro Con Patrimonio Vivente Che Anche Giapponesi Non possono Appunto Incontrare Una figura Del genere Sarebbe Stupendo Sarebbe Bello Ti voglio fare Un'altra Domanda Che Parlavamo Prima Di Iniziare La puntata Ti ho Parlato Di amici Mie Che stanno In Giappone Adesso E parlavo Un po' Di Magari Quanto è Difficile Io ti ho Detto È anche Un po' Costoso Andare Tu mi hai Detto No Ci sono Anche Altre Sì Altre Soluzioni Assolutamente Sì Ma Ci sono Diversi Modi Magari Per viaggiare In Giappone Uno dei Diciamo Modi Per risparmiare Più possibile Viaggio in Giappone È di organizzare Da solo No Non è Diciamo Una Pratica Semplice Organizzare Da solo Un viaggio In Giappone Che magari Non lo conosci Nemmeno Però sicuramente Potresti risparmiare Moltissimo Magari Prendendo Un volo Economico Facendo Uno o più Scali E Dormendo In un Capsule Hotel Come dicevamo Un arbergo Molto Molto Particolare Giapponese In pratica Si dorme E basta C'è una Stanzetta Piccolissima C'è solo Letto In pratica Magari Spendendo 15 euro 20 euro A notte Quindi Potreste anche Risparmiare Ci sono Delle strutture Che c'è Il bagno Bagno comune Quindi Si può fare Anche la doccia Eccetera Quindi Le sorzioni Ci sono Poi Dipende da te Insomma Cosa Che tipo di viaggio Volresti fare Ecco Esattamente Esattamente Va bene Direi che ci siamo Ok Quenta Grazie mille Per essere Stato con noi Grazie È stata una Chiacchierata Super piacevole Grazie Salutiamo i nostri amici E ci vediamo Alla prossima puntata Ciao Ciao